Secondo appuntamento della nostra rubrica dalla parte dei consumatori con l'avvocato Paola Bellomo. Io vorrei parlare in questo appuntamento delle bollette, perché parliamo di bollette pazze, perché parliamo di bollette che arrivano alle famiglie e poi molte volte viene detto che queste famiglie non pagano la bollette e quindi sono morose. Parliamo di una situazione in cui bisogna fare chiarezza e far capire ai nostri telespettatori qual è la verità. Allora, la verità sulle bollette qual è? La verità è che le bollette arrivano sempre e comunque quasi puntuali, non sempre, però arrivano e ovviamente bisogna sempre controllare l'esattezza degli importi. In particolar modo ovviamente le bollette dobbiamo fare un mondo, quindi bisogna fare delle distinzioni, abbiamo bollette di luce, bollette di gas, bollette telefoniche e bollette di acqua. Molto spesso ovviamente queste utenze, seppure sono rappresentate alla fine dei conti con la bolletta, spesso e volentieri sono sostanzialmente molto diverse, perché le forniture seguono un regime normativo completamente diverso. Quindi abbiamo delle leggi che riguardano la fornitura di gas, leggi che riguardano la fornitura di energia e così dell'acqua. Quindi dobbiamo fare sempre delle distinzioni. Ovviamente i consumatori spesso si ritrovano a riuscire a interpretare la bolletta e questo è uno dei problemi più sentiti nelle famiglie. E' un sacco di voci, è impossibile districarsi. Molto spesso infatti, tra le domande che più spesso mi vengono fatte dai consumatori, riuscire a capire come mai i consumi sono poi relativamente bassi rispetto ad altre voci di spesa, che risultano molto più onerosi. Ma bisognerebbe comunque fare delle distinzioni ed essere più specifici in questo. Va detto però che nel tempo l'autorità per l'energia e il gas ha stabilito una nuova fattura. Tant'è che ultimamente noi ci ritroviamo con delle fatture che sono molto semplificate, la cosiddetta bolletta 2.0, dove abbiamo soltanto sostanzialmente le voci più importanti di spesa e poi l'importo complessivo. Questo perché? Perché è difficile per un consumatore o un utente finale, così come viene definito, della normativa, effettivamente districarsi tra le numerose voci che compongono la fattura finale. Infatti, spesso e volentieri, ad esempio nelle fatture di energia, una delle voci più importanti che fanno la differenza è proprio la distribuzione. Quindi bisognerebbe cercare un attimo di spiegare tutte queste voci in cosa consistono. Uno dei problemi più sentito nelle famiglie riguarda proprio invece quelle che sono le bollette anomale, quelle che sono le cosiddette bollette pazze. Le bollette pazze a volte sono bollette dove ci sono degli errori effettivi oppure ci sono le cosiddette bollette di ricalcolo, che sono quelle bollette dove a un certo punto vengono ricalcolati importi anche abbastanza vecchi. Ecco, il ricalcolo è sicuramente un sistema che mette spesso e volentieri in difficoltà l'utente, il cliente che si deve arrivare a questa bolletta pazza? Beh, il ricalcolo sì, perché a un certo punto ci si ritrova con fatture molto esose, proprio in questi giorni ne ho vista una di 15.000 euro, dove c'era un ricalcolo a partire dal 2009. Però cerchiamo di essere chiari sul punto. Nel caso di specie noi parliamo di gas. Allora, il gas negli ultimi anni, un paio di anni, per quanto riguarda il nostro territorio sappiamo che il distributore Eni ha provveduto alla sostituzione dei contatori. Quindi il vecchio contatore con la rotellina cosiddetto meccanico è stato sostituito con quello elettronico. Che succede? Che le vecchie abitazioni, molto spesso, hanno all'interno dell'appartamento il contatore e quindi, salvo che il consumatore non faccia una periodica autolettura, è possibile che il distributore non riesca a recuperare la lettura. Questo non recuperare la lettura genera delle fatture di stime presunte. Quindi io presumo che hai consumato un tot e addebito una fattura basata solo e esclusivamente su una stima e non sull'effettivo consumo. Questo può generare poi, al momento di una lettura effettiva, un ricalcolo. Cioè il distributore ricalcola tutti gli importi dall'ultima lettura effettiva che è stata fatta fino all'ultima. Quindi può accadere che effettivamente i consumi negli anni che sono stati adebitati siano molto inferiori rispetto a quello che è stato il reale consumo di un utente e questo può portare a un ricalcolo importante. Una domanda. Ma la tutela del consumatore parte proprio anche da questo? Dalla necessità di fare chiarezza sulla bolletta che ricevono anche con il ricalcolo? Assolutamente sì, tant'è che l'autorità per l'energia e il gas negli ultimi anni ha dato delle linee guida e delle delibere molto specifiche. Si tratta di oneri a carico dei venditori e dei distributori molto specifici. Quindi che cosa accade? Accade che nel caso in cui un distributore si rende conto che una lettura non viene fatta e che quindi per anni o per un periodo abbastanza lungo stai mettendo fatture in stima deve comunicare con l'utente finale dicendogli guarda fai la lettura, comunicami i dati effettivi altrimenti si finisce poi in situazioni ovviamente complesse come nel caso che ti ho fatto prima di queste mega fatture. Tra le giustificazioni che a volte sentiamo da parte dei distributori o dei venditori c'è che non possono contattare l'utente per chiedergli questa informazione ma alla fine di ogni fattura viene indicato o viene consigliato poi di effettuare magari un'autolettura periodica. Ovviamente questo sappiamo che non è vero perché quando si tratta poi di morosità di recuperare il credito queste telefonate arrivano e anche con una certa frequenza. Una domanda che ti voglio fare è legata in particolar modo alle strutture, ai bar, ai ristoranti che con la ripresa e con la riapertura possono utilizzare gli spazi esterni. Ma sugli spazi esterni si paga una tassa? Beh, sugli spazi esterni sì, si paga una tassa che in questo momento è sospesa, che è quella di occupazione del suolo pubblico, in questo momento è sospesa però perché sappiamo che per le normative anti-covid ai commercianti è stata data la possibilità di avere i tavoli solo e esclusivamente all'aperto e quindi la possibilità per un certo periodo di non pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Questa scelta è messa in qualsiasi comune italiano? È utilizzabile? Sì, sì, assolutamente sì. È stata una scelta ovviamente, come dire, è stato un decreto varato dal governo quindi vale per tutto il territorio nazionale. Non è che poi alla fine questi commercianti si ritrovano a dover pagare la tassa dopo, nel tempo? Ma in realtà ogni tipo di tasse comunali come queste sono regolamentate da un regolamento interno dei comuni. Per quanto riguarda il comune di Crotone esiste questo regolamento che prevede la possibilità, o meglio il dovere da parte del commerciante di pagare se in regola con i contributi Tari, quindi con la tassa Tari, oppure di averla rateizzata. Quindi il commerciante anche se oggi ha la possibilità di occupare gratuitamente il suolo pubblico, il comune di Crotone impone il pagamento della Tari o come dire la rateizzazione. È chiaro che questo è un po' un paradosso per due motivi. Il primo sicuramente perché nel momento in cui la legge, quindi una legge di Stato prevede la possibilità di occupare gratuitamente il suolo ovviamente non dovrebbe, il regolamento in questo caso decade automaticamente. Il secondo punto è un altro, è un'anomalia che abbiamo riscontrato all'interno del comune di Crotone che se vuoi ti posso raccontare. Ho affrontato di recente il caso di un commerciante, o meglio di un ristoratore crotonese, il quale ha chiesto al comune di Crotone il rilascio dell'occupazione di suolo pubblico. Purtroppo si è visto negato questo diritto perché risultava amoroso del pagamento Tari. Questa spiegazione è subito dato, come dire, impressionato il nostro ristoratore perché in realtà aveva formulato una rateizzazione presso l'agenzia dell'entrata e riscossione e interessato l'ufficio Tributi è stato il risposto che mancava nella rateizzazione il pagamento Tari anno 2020. Però questo pagamento Tari 2020 riguardava una cartella ancora non emessa e ci si è chieste allora come si potesse risolvere il problema se il comune poteva fare una rateizzazione indipendentemente dall'agenzia dell'entrata e riscossione. Ma è stato risposto di no, nel senso che il comune non può fare un piano di rateizzazione, bisogna comunque aspettare che l'agenzia dell'entrata e riscossione invii poi una cartella. Una cartella che sappiamo che al momento c'è la sospensiva, quindi fino al 30 aprile tutte le cartelle in emissione sono sospese e non sappiamo quando verrà generato il ruolo di questa cartella. Quindi i ristoratori come quello di cui vi ho raccontato rischiano di non poter aprire perché non viene dal comune di Crotone rilasciato il diritto a occupare il suolo pubblico se non hanno pagato un qualcosa che ancora non esiste, cioè se ancora non hanno pagato una cartella che ancora non è stata emessa. L'ufficio tributi di Crotone come dire conveniva con il fatto che si trattasse di un paradosso, di una norma che in qualche modo andava un attimo rivisitata, però pare che queste siano le direttive al momento del comune che ha proprio previsto di fare cassa in un momento, si tratta di una sorta di ricatto perché chiaramente in questo momento nessun ristoratore può lavorare al chiuso. Quindi io ti ricatto sostanzialmente, cioè mi devi pagare tutto quello che puoi pagarmi se vuoi occupare il suolo pubblico. Quindi diciamo che nel momento di crisi che si sta vivendo e quindi questa riapertura che è diventata fondamentale per un sospiro, dobbiamo dire di sollievo per la nostra economia, ci sono tanti i problemi perché a questi problemi ci sono poi quelli delle bollette e quindi ci ritroviamo sempre più giù. Diciamo che ci troviamo in una situazione dove c'è un conflitto di interessi, dove il comune sostanzialmente non va in questo momento incontro ai suoi cittadini perché una ripresa economica equivale anche a una ripresa di tutto l'apparato economico all'interno di un comune. Invece si assiste più a un ricatto che sicuramente va a impoverire il tessuto economico del nostro territorio. Infatti ovviamente sarebbe opportuno che su queste questioni si interpellassero le istituzioni ma soprattutto che la nostra amministrazione provvedesse a confrontarsi tra tutti gli uffici e trovare una soluzione perché parliamoci chiaro sono mesi che i ristoratori, i bar sono chiusi che sopravvivono, sono sopravvissuti con qualche aiuto di Stato ma sicuramente nelle loro priorità ovviamente c'è stata la sopravvivenza della propria famiglia piuttosto che andare a pagare tasse che seppure doverose sono comunque legate all'attività. Assolutamente ma tra l'altro voglio dire il comune di Crotone sappiamo bene che applica una tassa che è tari che è superiore alla media italiana quindi con un servizio potremmo dire anche inefficiente perché parliamo della tassa sulla spazzatura e con tutto quello che ne deriva senza dare un servizio vero poi ai ristoratori che invece non vengono supportati un'ulteriore dimostrazione di non supporto a questa categoria che invece voglio dire nel periodo estivo soprattutto dà sicuramente alla città un aspetto migliore vedere tutti quei ristoranti, quei bar insomma aperti, riprendere la vita sociale riprendere la vita sociale e quella economica ovviamente del territorio. Grazie